Qualcuno di voi ci ha accennato un pochino qua e là alle opere capitali, in un certo senso, la trilogia, le prime tre opere di Ubaese, Pieste, Prima, Mori, Racconti della Sina. Poi Nemo si è dedicato più al racconto storico, alla ricerca storica e quindi affrontato altre opere. Maria Teresa Rausino ci parlerà di Strapese e Pieste, Prima del Novecento, giusto? Bene. Maria Teresa a te la pronti. Buonasera a tutti, porto i saluti dei soci della società di Storia Pazia, qui presenti, Stavigli, Cernogna, Cernighele e Cianco. Ecco, io sono molto contenta di essere stata nominata presidente di questa società di Storia Pazia e Sezione Calcano Nord e grazie proprio all'ingentivo che ho ricevuto proprio nei primi anni in cui io mi sono dedicata alla ricerca storica la parte di Mimmo Agliosa, di Matteo Sieta e anche altri storici del Bergano ecco io voglio ricordare l'opera storiografica di Mimmo perché Mimmo ha dedicato tanti libri a Pieste però ecco in questo primo è vero nel 1999 me lo inviò io gli avevo inviato chiesa religiosità popolare a Pestici e mi stisse a Teresa Bagnaro Zino ammirato e grato per le belle cose che fatte misericanti e la mia cara Pestici nei circuiti più vivaci della cultura garganica Mimmo Agliosa quindi poi sono seguiti ogni volta che pubblicavo un libro e ci scambiavamo questi libri perché voi dovete sapere che è fondamentale per noi che ci occupiamo di ricerca storica vedere, leggere anche quello che i nostri colleghi hanno studiato nei loro paesi perché basta uno spunto qualcosa per darci quella scendita che vuole far nascere un tempo di ricerca ecco io penso che ho riletto un po' tutti questi libri che Mimmo mi aveva diciamo e quindi mi aveva mangiato e devo dire che è stata un'opera eccezionale perché io già conoscevo le cartaniche tutti i libri del centro Cimaglia l'avevo letto perché soprattutto quello del 1600 mi ha servito per la ricerca su Pestici perché non parla solo di testa ma parla di tutto il gargano ecco quindi ecco questa ricerca storica delle fonti che lui ha di una data ripubblicato in una statica e certo il testo poi di approfondire e dare discorsi sui simboli pensi lui in questo libro che è stato nel primo novecento che cosa ha focalizzato ha focalizzato le figure degli uomini del novecento che hanno segnato proprio primo diciamo decennio focalizzando su due personaggi importantissimi uno un sindaco penso parente del nostro lini sfida di Ana che si chiamava Domenico Antonio Sfida e che fu sindaco di Est dal 1899-98 fino al 1910 quindi praticamente un sindaco che ha fatto delle cose bellissime per Pieste cioè ha viato Pieste proprio sulla via della civilizzazione perché Pieste era in condizioni penose e questo sindaco teniamo presente il figlio lo ammira perché praticamente per dieci anni del badare alle varie incondenze dovute alla sua carica di sindaco arriva a lasciare il suo lavoro cioè aveva avuto la sua famiglia per dieci anni dedicandosi totalmente all'azione amministrativa un'azione amministrativa coraggiosa arrivata da altri diciamo aveva avuto flauti come braccio destro che quando si trattava di prendere fuori delle decisioni popolari lo sosteneva con la sua oratoria come si è visto in tutte le leibere e poi Mimo pubblica nel libro perché è importante andare a sculciare negli archivi comunali e così solo così ci possiamo rendere conto della personalità di chi gestisce la cosa pubblica della loro buona fede di quello che c'è dietro e questo lavoro è stato fatto da poche persone perché gli archivi comunali sembrano non dico una cosa morta ma mi sono lasciati lì magari i documenti non sono inventariati quindi noi siamo costretti noi storici proprio ad almeno interi faltoni per trovare il documento che potrebbe diciamo interessarci e questo è importante perché le leibere di Giunta le leibere del Consiglio Comunale tutti i ricorsi le opposizioni sono veramente importanti e niente uno ecco uno dei pallidi diciamo di questo sindaco di Antonio è la Davia Vita perché Fiesta poi sapete che era considerata e deconsiderata tutt'oggi la scrittura è un inno diciamo oltre a raccontarci proprio diciamo fatti prettamente storici ci fanno ci mette lì per eccetera eccetera rispondere a pure due opere due le secondi di viaggio due ripostaggi di viaggio di Bertrandelli e di Dell'Erba chi era Dell'Erba era un giornalista di origini di Est che era redattore del giornale d'Italia e corrispondente da Napoli del Corriere della Sera ecco che cosa evidenzia Mimmo questo straccio che lui ripubblica dello Sperone d'Italia del 1906 lamentava le condizioni dell'attore provinciale Fera Fricepa bianca e indeterminabile piena di svolti difficilissimi di cose salite e di discesa e precipitose un viaggio smeltante effettuato di indilligenza una grossa gabbia scambierata cicvolante e stridente con un'anima in pena il quassigero soggetto ai ricordi del spredo invernale a tanto si come se fugeva il rivoluzario incessante e pastiglioso di mosche frugenti veniva sovente sbattato violentemente da l'interno della lettura evitando la costretta scendere tratti a piedi quindi questa odissea di questi passeggeri di questi turisti diciamo avveniamoli così perché Bertrandelli Gregorovici non riesce a quando avvenire avvenire però Bertrandelli c'erano viva e quando arrivava a pièce si vede diciamo a colpo come se fosse diciamo qualcosa di mostruoso di eccezionale quindi quando arrivava il viaggiatore tutti i piestati andavano a vedere che cosa c'era se c'era domande quindi un pochino questa curiosità diciamo verso chi decideva in quelle condizioni e di arrivare a pieste pieste in livello paese in Bracano ecco quindi praticamente che cosa dice Bertrandelli che queste sono le dolcezze a cui del te sottoposti colui che abbia in animo a visitare una tra le più belle regioni d'Italia perché Gagliano è sì un luogo di incanti e di meraviglie una delle più belle regioni ma anche sulle regioni più dimenticate del reddito quindi ecco questa nota che chiaramente l'immocicliene è evidenziata perché è come questo all'interno economico del sud in particolare di Vieste qui era legata diciamo il diritto a un antico collegamento con Foggia con Foggia con da Vieste ad Acrocena ci voleva ben 14 ore di viaggio immaginate la Acrocena a San Severo che ha scoccia chiaramente questo sindaco ritornando al sindaco perché poi una delle opere del sindaco è proprio quella di tienere la strada provinciale per mattinamba che avrebbe diciamo di pensare il tragitto di percorrenza e niente quindi Imo dice eppure ci fu qualcuno nativo del luogo che già quel tempo in qui che il paese meno raggiungibile del promontorio avrebbe potuto avere un futuro economico diverso se soltanto si può assorbiamo al progetto quindi era condivitando a Nelstina quindi la viabilità fu il punto di forza della sua azione anche di stradittà e gli spiegati anche per costruire un posto commerciale la febroglia a Cicc intergalica e l'apertura come abbiamo detto dell'Avest di Martinata più agevole di quella di Aficina era un transicente amministratore della cosa pubblica che praticamente finanziò queste innovazioni passando coraggiosamente i ricchi e questo chiaramente gli provocò un tacco di problemi perché nel 1905 lo volevano sbalzare perché si parla non è sposto contro di lui anche coloro che avrebbero firmato diciamo tutte quelle opere pubbliche perché queste opere pubbliche erano tantissime quindi c'era anche oltre diciamo a queste dichiarazioni di intento la costruzione della pesteria del municipio con amnesse scuole scuole e il cimitero bellissimo leggere le libri contro diciamo chi gli aveva fatto opposizione perché il cimitero era praticamente ti moriva e ti va tutta con la quindi sono incontrazioni gentiche terribili quindi anche l'igenicità nei luoghi quindi fa ricostruire il muro vicino sulla una passeggiata attuale e niente quindi dota la cittadina praticamente di tutti i servizi pubblici essenziali cilio scuola pescheria mattatoio cimitero il cimitero il cimitero piazze il cimitero già nel 1899 trasforma una riva squalida con un'ora protezione dell'abitato in un bellissimo reale alberato che in seguito fece illuminare collazioni elettrici i sindaci successivi furono costretti poi loro alberato ad abiguarsi perché c'erano un po' le convenzioni da un cazzo dei cosi di intercessi andando contro l'interesse e lo stesso oggetto sociale a cui apparteneva quindi prima si erano presi con Domenico Spina e poi purtroppo furono costretti a un dilutro a tassare diciamo posteriormente insomma specialmente Ricc perché Domenico Domenico Spina diceva chiaro che dobbiamo dassare chi possiede perché gli altri cioè tutte le elettrici ce lo chiedono perché andiamo a dassare perché gli altri volevo che vissero dassare tutti indistintamente con il foca Quindi ecco, praticamente, era un secondo, secondo la piota, che fu proprio questo sindaco per cambiare, diciamo, per essere turismo, e poi c'erano a te, quando nel 59, sorvolando con il suo aereo personale a posta di estana, rimase tanto affascinato dalla sua bellezza che intusse il pilota per per fare più di un passaggio. Quando giunta nei pressi di Puglionco disse, ma questo è il paradiso, il suo centro turistico svolse proprio qui, nei primi anni sessanta, dando la via al turismo galganico e fu un evento evoluzionale. La riviera marina di Chiesse diventò la mitica passeggiata dei primi clienteggianti dell'It e le calde serate della dolce vita nel Gargano Nord. Oggi, con il mese di Aljota, sempre in Aljeste del ultimo novecento, nei romantici sognatori di una Aljeste diversa, è rimasto il ricordo delle belle signore Nabito Lugo che nelle sere d'estate sfilavano per il corso fazzini, come se fosse una pastella di nuova. Quindi invece ora il turismo aveva assoluto un aspetto omologante in tutto gli aspetti vaginali, e quindi vengo allo di marca. Ecco, e io ho già anche l'opera di un altro patron del turismo d'estate. Nell'altro libro, quindi io ho veramente cointato i personaggi, e quindi io non mi so se non mi do l'input perché siamo incentivati, non ho detto a leggere oppure a rileggere, come ho fatto io, perché non ho detto tanti casi di nemico e portando un pochino. Nello strapaese, perché strapaese? Un pochino ci richiama il movimento culturale che sta assicurando il fascismo nel 1926. Però ecco, vuole mettere in evidenza un genio sloce, c'è lo spirito dei uomini, e lo fa con la sua narrativa raccontandoci di tanti bellissimi personaggi che lui ha il potere proprio di rendere quasi dei camelli, quindi è bellissimo poi il modo in cui racconta, diciamo, queste belle storie, e anche storie tragiche, tipo quelle dei pescatori, che poi si può approfondire nei Trabucchi del Galgano. A proposito dei Trabucchi del Galgano, ricorderò sempre un piccolo episodio personale. Avevo pubblicato proprio in quegli anni, con il parco del Galgano, il libro, recendo su di Martella, sappiamo carina, che è il Trabucchi del Galgano. E quando chiedevo un po' di copie, praticamente ci pensero quindici, sedici copie. E noi ci partemmo sostenere con Matteo Fusilli, per dire una scusa. Noi vi abbiamo dato il libro, cioè, l'hanno divulgato questo libro, che non l'ha discusso. Perché? Non ci date le voti, perché non ce le chiedono. Perché avevamo scritto il terzo occhi, il problema della memoria. E niente, ma era incazzati, scusate il termine. Ecco, perché diventa il personaggio, perché l'avete conosciuto. Era braviatissimo. E quindi, ma Teresa, ma perché? Possiamo, possiamo mettere, cioè, difilare il parco del Galgano. Possiamo praticamente, mentre sotto un cusa, possiamo denunciare. E io ho detto, ma non lo so. Vabbè, poi, comunque, la storia di questi libri è rimasta così, perché il soggettore vuoi. Infatti, ogni tanto che le diceva a me, questo libro io non ce l'ho, ho avuto conto di letto, scaricandolo sul sito. Ed è bello, perché comunque, la vita dei trapegghiste racconta incolorizzati del Dano, da Mimmo, che racconta anche i bisogni personali del papà che fa trabucchietta, bucolante, dell'ozio che muore tragicamente, di lui pure che cade da trabucche, per cui non ci resta, come era successo allo zio. E quindi, tutte queste bellissime storie. Cioè, perché lui ha una mezzo di narrativa escezionale. E questo trapeggio che racconta proprio questi bisogni, pure della resistenza del Stato, perché il documento che ha citato, diciamo, quello di Mettoressa D'Antoni a giù in Bosteta, praticamente, l'abbiamo ripubblicato pure nel libro sul papà del giudice. E rileggendo tutti gli appunti, perché l'aveva segnalato da pareggio tempo, abbiamo fatto il primo commento insieme nel 2007. Ehm, leggendo le note, lui dice che praticamente Ben Giudice era capo del Comitato di Liberazione Nazionale di Mondieste. Ora, questa notizia non abbiamo fondi scritte, però ho preso un modo che lui, per affermare una cosa del genere, si sia ben documentato come usava a fare. Sì, sì, abbiamo letto tutte queste cose. Abbiamo visto anche la foto che poi è nata che fece premare il Duce. Mauro del Giudice, dice Memoria, una storia del processo Matteotti, che spero di presentare anche qui a Bieste. E quindi questa notizia, diciamo, è da approfondire chiaramente, però, insomma, già, Benelli, Arrudi aveva detto che faceva parte del Partito d'Azione e poi ne avevano fondato in particolazione acquista. Quindi sono, diciamo, viste di ricerca da verificare, possibilmente, con le fonti scritte. E niente, quindi, da tutto il lavoro di Mimo, quindi, voglio solo dire, visto che siamo a 25, quindi penso che lo leggeriamo a Tennelli, che è una storia che il 17 settembre, dopo l'ultraquistizio, viste fu invaso da soldati tagliati spandati. I tedeschi cercarono di allontanarsi rapidamente su una camionetta. Sì, la camionetta proseguì la sua corsa. Il giorno dopo i tedeschi ritornarono in forze per effettuare la presa. E qui ci fu una sorta di ripensamento, poi, da parte del capo dei tedeschi, che preferì poi andare da un bambiere a, diciamo, farsi tagliare i capelli e mostrò poi, diciamo, una medaglia della Royal Health Corps. Quindi, diciamo, ecco, poi di questi soldati che arrivano, non so, da Pippo Slavia, per sfuggire di Gine, anche ai, diciamo, ai tedeschi, e a Pieste ci fu un episodio corale di solidarietà per salvare tutte queste persone, che poi, chiaramente, quando furono, diciamo, portate sulle banche, vennero itragliati dalla fronte aerea, che non si capiva, che in etichetta sono un'idea affosta. E, diciamo, i curanti del pericolo aiutarono tutte queste persone a salvarsi. e, diciamo, ecco, poi c'è l'episodio di Gioffreda e di De Vicenti, che lavoravano ad un anno, che pure riuscì, e della medaglia, c'era la medaglia, c'era la medaglia, c'era un'encomia, aveva anche un, diciamo, un riconoscimento in denaro, 9000 lire, di Giuffreda, e ricordiamo anche Francesca Pornetti Gioffreda, di Pavardi Antonio, che era il segretario comunale di Pieste, e poi citato, insieme a Del Giugno, con questa delibera, come coloro che tennero accesi, accesa a Pieste, per il rilume della libertà, in questi momenti così, tragici, che noi oggi ricordiamo, come 25 aprile. Vi ringrazio appunti. Vi rifaccio anche a Pieste. Grazie, Teresa. Io mi chiedo di 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 Dio, di 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 Dio. Ma, l'hai commentato a parte di 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 Dio. Quando Maria Di Lessa parlava del Sindaco nell'inizio del Novecento, prima domenica Antonio, Mimbo, alla fine del suo lavoro, scrive delle condizioni in cui si trova la tomba di questo egregio, signora. E lui dice, quando andate al civileo passate da quella tomba, lasciate un giro. Però pare che ci sia un'azione per recuperarli, però vi dico domenica, guardando la chiesa, il corridoio di destra, dove sta il muro, con le tombe addossate, dalla parte di dentro, percorretelo dalla parte ultima. La terz'ultima è quella di una tomba passata con le condizioni. Io ci vado spesso perché prima c'era il mio nome.